Mi dispiace perché per come stavamo giocando la gara c'era marico di dover chiudere il primo tempo la gara perché il primo tempo quando il gioco era in mano a noi riuscivano determinate cose che sapevamo che potevano riuscire su una loro pressione forte, eravamo alla ricerca di alcune cose dove sono riuscite e poi devi chiuderla la gara perché se è una costante su determinate cose perché sono cose che magari i ragazzi provano e riprovano e sanno che possono trovare nella gara e quindi là è il momento che devi far male anche perché poi è inevitabile che una squadra del genere poi inizi a forzare e quindi possa un po' metterti alle corde come è successo. Poi c'è stato il finale, diciamo il finale gara, c'è stata la parte centrale e abbiamo sofferto del secondo tempo il finale invece diciamo c'è stato un batti e ribatti, abbiamo avuto alla fine sette tiri in porto a loro, sei noi quindi comunque è stato, si erano dei ribaltamenti di fronte e poi oggi è stata una giornata da primi caldi quindi sia loro che noi un po' sono dei momenti che i ritmi, infatti le squadre un po' si sono allungate a un certo punto e quindi bastava vincere avendo attenzione su quel calcio d'angolo, più attenzione. Sicuramente non è che lo posso dire io, l'hanno ammesso anche gli arbitri dopo averlo rivisto che il gol era regolare e ogni settimana c'è sempre qualcosa che non va. Oggi devo fare complimenti ai ragazzi perché hanno fatto secondo me una delle migliori partite in trasferte fin dalla via abbiamo cercato di giocare e di creare, poi è chiaro che oggi a parte l'errore arbitrale abbiamo avuto tante palle e gol e soprattutto è stato bravo il portiere in occasione come su Moro, come su Valote insomma oggi è un peccato aver perso due punti però sono fiducioso perché ho visto quello che volevo vedere e finalmente anche fuori casa. È stato quasi un mezzo rimpallo, è stato fortuito perché alla prima occasione che hanno avuto l'hanno sfruttato però la squadra non si è mai disunita e ha creato tanto per poi rimettere le cose a posto. Ci siamo riusciti in parte e poi abbiamo tentato il tutto per tutto per cercare di portarla a casa e purtroppo tanti episodi non sono stati dalla nostra parte, sia la bravura del portiere avversario sia l'errore arbitrale che ci danneggia, ci penalizza così come la settimana scorsa però ripeto di positivo c'è che finalmente ho visto la squadra giocare bene anche fuori casa.